Sono Marianne. Roland. Peccato per la pioggia. Non c'è niente di peggio di un barbecue pannelliccio. È che... è che sono appena uscito da una storia un po' lunga, perciò ecco... Cioè, quando è un po' di tempo? Potremmo pensare di... Certamente sì! Ok, guarda, è solo che adesso sto passando un periodo un po' complicato. E se facessi un part-time? Ma che senso apribbe? La maggior parte del tempo la passo davanti a un po' di tempo. Ah, questo è chiaro, l'ho capito. Atomi, molecole... Chiaro, chiaro. Smettere di lavorare ti spaventa, dai. Cosa farò? No, certo, non devi... Preferirei tipo... andare a letto e dormire. Potremmo pensare che le scelte che facciamo abbiano voce in capitolo nella... No, no, certo. Posso sapere almeno se il problema sono io? Sì, vorrei che te ne andassi. Ora! Sì... Sì... Ho! Sì... 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 Grazie a tutti